Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a Legalitria 2020. Noi vi stiamo offrendo l'opportunità gratuita di poter assistere a delle presentazioni di testi sulle mafie. Abbiamo circa una ventina di presentazioni, una ventina di autori di carattere nazionale che hanno sviluppato inchieste per riconoscere questo fenomeno tipicamente italiano. Legalitria è il primo e più importante progetto di lettura che vuole approfondire la conoscenza delle mafie per prenderne distanze. Benvenuti a questo festival e teniamo duro perché possiamo sconfiggere le mafie imparando a conoscerle per prenderne distanze. Ciao da Leonardo Palmisano, queste radici future produzioni, benvenuti a Legalitria 2020. Buongiorno ragazzi, buongiorno a chi ci segue in diretta social da tutta Italia, buongiorno ai ragazzi del Basile Caramia, ribongiorno perché ci rivediamo con questi ragazzi, con questo istituto e buongiorno a Nello Trocchia che è collegato con noi da casa e oggi affrontiamo un altro, mi tolgo la mascherina, è consentito, affrontiamo un altro aspetto di queste mafie, quello che il libro, lo vedete, è Casa Monica, Nello Trocchia edito da Utet, negli anni 70 c'era uno spot di Carosello, non so se te lo ricordi, c'era Tino Scotti che pubblicizzava il confetto Falqui, aveva un pay off, era basta la parola, in questo caso credo che sia quello che a Roma e nel Lazio si sia riverificato, Casa Monica basta la parola, che cos'è Casa Monica? Però prima metto e sottolineo il lavoro d'inchiesta di Nello Trocchia che è stato corrispondente anche di Nemo, che scrive per l'Espresso, per il Fatto Quotidiano, nonché premiato con due riconoscimenti piuttosto importanti, il premio Paolo Borsellino e il premio articolo 21. Nello, basta la parola? Innanzitutto buongiorno a tutti e tutti, buongiorno a te, buongiorno ai ragazzi e a quanti ragazzi che ci stanno ascoltando. Vado subito su Casa Monica, però ci tengo che siamo una realtà che è nata da poco, adesso io sono inviato del Quotidiano Domani e abbiamo un sito che si chiama editorialedomani.it e usciamo tutti i giorni in edicola con il Quotidiano e proviamo a raccontarle queste storie, raccontare molto di mezzogiorno e molto della criminalità organizzata. Basta la parola, hai perfettamente ragione tu. Tre anni fa, presso la Procura della Repubblica di Roma, cioè davanti ai magistrati, davanti ai carabinieri, una signora che aveva avuto un problema perché il figlio era scappato negli Stati Uniti, perché impaurito e inseguito da Casa Monica, quando doveva pronunciare la parola del clan non li nominava, diceva a quelli là, tant'è che i magistrati hanno detto ma lei si riferisce ai Casa Monica, dice ma io non li voglio nominare perché ho paura, per questo basta la parola. Quando non si nominano i clan, quando non si pronunciano i nomi dei clan e dei boss, significa che siamo all'anno zero nel contrasto al crimine organizzato. I Casa Monica a Roma sono diventati il clan autoctono più potente del Lazio perché sono stati innominati in una città che è specchio del paese, perché quello che succede a Roma nella capitale si riverbera da un punto di vista proprio dei modi e delle consuetudini in tutto il paese. È l'Italia che ha ignorato il fenomeno criminale, noi al sud meno perché abbiamo avuto le stragi e abbiamo visto con gli occhi il sangue, i morti ammazzati e quindi abbiamo capito che avevamo di fronte. Ma da Roma in su, sopra il Garignano, che è il fiume che bagna la campagna e divide la campagna dal Lazio, le mafie sono state totalmente ignorate. Nella città capitale del nostro paese, capitale di un paese del G8, dentro questa sottovalutazione del fenomeno criminale, i Casamonica erano anche gli zingaracci, così definiti e autodefiniti così, cioè lo scarto del crimine, così inteso, venivano bollati come i bulli di periferia, come un manipolo di ladri di polli e con questa sottovalutazione del fenomeno mafioso generale e del clan Casamonica, questi sono diventati il clan più potente del Lazio, tanto da indurre una signora della media borghesia romana a non pronunciare il loro nome e tanto da indurre cittadini vessati a ritirare sistematicamente le denunce quando la controparte aveva quel cognome lì o veniva ricondotto a quella famiglia lì. Tanto è potente quel cognome che ci sono alcuni familiari dei Casamonica, i di Silvio e i di Guglielmi, che quando si devono nominare si cambiano il cognome, si chiamano Casamonica, anche se si chiamano di Guglielmi, anche se si chiamano Spada, anche se si chiamano di Silvio, perché Casamonica è riconosciuto e identificato come un clan che ha tanti tratti distintivi particolari ma che è stato conosciuto, ma quello non è l'unico tratto caratterizzante per la violenza manifesta e esibita che intimorisce e intimorito migliaia di cittadini e costruito a Roma, non in periferie del sud, il vincolo dell'omertà. Perché l'omertà non è qualcosa che ha ragioni e origini etniche e territoriali. Questa è una boiata, una fesseria, una bugia colossale. L'omertà è un fenomeno sociale, si radica in ogni territorio, indipendentemente dalla posizione geografica, quando tu cittadino non riconosci più lo Stato come interlocutore, ma riconosci un altro potere. Quando riconosci un altro potere, lì alligna l'omertà e l'omertà alligna da anni nella città di Roma. Sottovalutazione, minimalismo che però sono serviti a questa famiglia, a chi tira le file all'interno della famiglia per brandizzare quasi il nome Casamonica. Perché serve, come dicevi poco fa, ad affermare una forza, un potere comunico. C'è del marketing addirittura in questa falsa quinta, il rimanere in ombra, il non rimanere in ombra, cioè il farsi vedere, l'essere agli onori della cronaca in maniera plateale, completamente opposta rispetto alle mafie tradizionali, che in genere sono nell'ombra. I Casamonica invece si fanno vedere e vogliono che si veda, devono trasmettere un messaggio, fanno marketing. I Casamonica sono stati per anni e sottovalutati per quelle ragioni che dicevamo prima, e anche per altre. Ma se andate e vi confrontate nel libro, io affronto questa questione anche con persone che stimo nel mondo dell'informazione, nel mondo della magistratura, nel mondo degli inquirenti, degli osservatori, mi diranno che i Casamonica non sono mafia, per quello che hai appena detto tu, cioè perché loro esibiscono e le mafie tradizionali non si esibiscono, perché loro hanno fatto il funerale, ma quale boss mafioso platealmente viene ricordato così? Ma quale boss mafioso dà una testata in faccia ad un giornalista, la loro collega di Nemo Daniele Pervincenzi e al filmmaker Edoardo Anseli? Ecco il punto vero di incomprensione, è proprio questo. se tu vuoi leggere i Casamonica con gli occhiali con i quali leggiamo le mafie tradizionali, non hai capito nulla ed è un tu generico, cioè non si comprende l'elemento distintivo di questo clan. Questo è un clan che ha delle caratteristiche, che è un plasmato, un'identità culturale e un'identità criminale. Loro si esibiscono, loro si mostrano, loro non rinunciano ai loro tratti, ma ne hanno altri molto più impercettibili, che io ho provato a studiare, ad esempio la lagnazione, che è tipica dei Casamonica. Che cos'è la lagnazione? Se io ti presto i soldi, loro hanno un sistema di prestiti del denaro, loro sono usurai, oltre a essere estorsori e grandi spacciatori di droga. Quasi la metà della cocaina che gira a Roma è controllata o riconducibile all'organizzazione di spaccio dei Casamonica. Di questo stiamo parlando. Loro con la lagnazione che cosa fanno? Io ti presto dei soldi, spesso i prestiti loro li inducono, semmai dopo ne parliamo, loro costruiscono il bisogno. Da questo punto di vista sono degli strateghi, oltre a brandizzare il marchio. Loro ti costruiscono, ti riconsegnano il bisogno. Se tu sei un consumatore di cocaina, o sei un consumatore di altre sostanze, loro ti danno più sostanza. Dandoti più sostanza, tu dovresti dargli più soldi, che semmai in quell'occasione tu non ne hai. Quindi ti indebiti per 1000 Euro, per 1500 Euro. Loro dopo due giorni ti chiamano, ti dicono, te li avevano appena dati, ti dicono, ma a me servono quei soldi, perché io li devo dare a mio cugino, io li devo dare a uno che è venuto qui a casa, mi devi dare subito i soldi. E quello non ce li ha. Ecco, loro hanno costruito così, così come hanno fatto con immobilieri, così come hanno fatto con imprenditori, così come hanno fatto con semplici cittadini, così come hanno fatto con consumatori, non solo consumatori di droga, anche i negozianti. Vanno lì, danno un acconto per prendersi il più bello allestimento a disposizione, ti danno un accordo di 3000 Euro su 30.000 Euro. I 3000 Euro dopo tre giorni si presentano il sabato alle 8 mentre tu stai chiudendo e ti chiedono i 3000 Euro indietro, tu non ce li hai da dati, non ce li hai in casa. E quello costruisce il debito, il rapporto, ti soggiogano, ti sottomettono. È un lavoro prima mentale e poi fisico, perché essendo casa Monica ti impaurisci. Questa loro struttura, questa loro costruzione redazionale non appartiene a Bolli di periferia, non appartiene a Scalzacani, non appartiene a Ladri di Bolli, appartiene a una struttura criminale che è identitariamente criminale, che ha tratti criminali. La lagnazione è un meccanismo in cui induci nel soggetto, nell'interlocutore, un fenomeno di assoggettamento. È difficile trovare un casa Monica che al telefono ti dice pezzo di M, dammi i soldi. Solitamente loro si lagnano, si lamentano. Tu lo sai che ti voglio bene, che ti abbiamo dato i soldi, ma io ne ho bisogno. Loro passano da partire bisogno. E solitamente le minacce sono ricondotte a terzi. Loro vanno lì o chiamano e ti dicono guarda è venuto uno ma ha minacciato, quello è pazzo, quello spara, fa male, piglia puni. Questa roba qui che cos'è? È arte criminale, è livello criminale superiore, perché è materia di intercettazione ambientale o telefonica, inutilizzabile a processo. Come la utilizzi questa intercettazione a processo? Se non smaschere il sistema criminale che dietro muove queste logiche. Se tu non minacci non puoi ricondurre il tutto a un'istorsione, non c'è il reato, perché tu non gli hai detto me li devi dare, hai capito? Altrimenti ti sparo. Tu hai costruito attratamente una scena finta. Loro non hanno nessun soggetto a cui restituire i soldi e nessuno li ha minacciati per quei soldi. Ti hanno indotto la paura e tu diventi un sottomesso. È una sorta di coro greco, da tragedia greca che si mette in scena ogni volta. Adesso fra un po' affronteremo il passaggio, quello mediatico, quello del funerale, però voglio dare spazio alla prima delle domande dei ragazzi in maniera tale da poter anche interagire virtualmente con loro. Da alcuni passi del tuo libro si evince il crescente potere della famiglia Casamonica. Sono notevoli le attività che gestisce, usura, spaccio di droga, prostituzione, attività commerciali, imposizioni del pizzo. Chiedo come mai la città di Roma, con le sue istituzioni, come scrivi nel libro, non ha voluto mai fare i conti con la cappa criminale che l'ha sedotta e impoverita. A pagina 39 definisci differente l'ambiente criminale di Roma rispetto a tutti gli altri. Perché? Due questioni solleva questo studente o questa studentessa e sono entrambe interessanti. Un po' la risposta è nella domanda. Se tu nomini un problema lo devi affrontare. Se tu ti dici che hai una questione che produce criticità, la devi risolvere. Se le istituzioni romane che sono il CSM, a Roma c'è il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Orgo del Governo dei Magistrati, c'è il Parlamento, c'è il Quirinale, c'è il Vaticano dall'altra parte del Teval, c'è il Cuore del Potere. Se il Cuore del Potere si dice che qui c'è la mafia, la mafia la devi sconfiggere, la devi abbattere, la devi affrontare. Se le questioni non le nomini, non le affronti. Ci sono due prefetti negli anni 90 e negli anni 2000 che hanno detto le stesse cose con 25 anni di distanza. A Roma non c'è la mafia, solo rami secchi. Questo a che serve? Serve a evitare di dirsi che ci sono radicate mafie autoctone e mafie dall'esterno, quelle tradizionalmente presenti nel sud Italia che da anni hanno messo la dice Roma e che dovresti affrontare. E perché non le affronti? Per due questioni. Una perché è complicato, due perché irrorano il sistema economico di soldi. I Casamonica, prima di essere tutto alto, tutto quello che noi ci possiamo raccontare. Sono un'agenzia criminale di servizi. Distribuiscono alla città di Roma, alla proletariato urbano, alla media borghesia e all'alta borghesia la coca, la droga. È un'agenzia criminale di servizi. Offrono alla media piccola imprenditoria in difficoltà che non ha linee di credito, non accesso al credito. I soldi a strozzo offrono servizi. I Casamonica non sono solo i Casamonica che semmai vedete nei miei servizi o che racconto nel libro con quella esibizione. Io lo racconto. Dietro ci sono gli imprenditori che si sono diventati giganti coi soldi dei Casamonica. Ci sono i professionisti che danno una mano a prendere le case, a reinvestire, a fare il grande riciclaggio. Dietro questo italiano incerto ci sono manovre di riciclaggio che arrivano a Monte Carlo. C'è il rinvestimento nel settore alberghiero turistico, nel settore delle autovetture, nel settore medico ospedaliero. Questa è mafia. È come la disarticoli. Se la nomini la devi disarticolare, ma se la disarticoli devi arrivare fino all'imprenditoria, fino al mondo delle professioni, cioè mettere in discussione il sistema che hai generato. E allora il sistema che esiste a Roma nessuno o pochi vogliono metterlo in discussione. Tant'è che non dovete dimenticare che lo Stato non processa mai se stesso. Il Roma non viene sciolta per mafia dopo i fatti di battezzati mafia capitale e poi trasformati dopo la Cassazione di mazzetta capitale, ma scioglie per mafia solo il municipio di Ostia. Nonostante gli ispettori avessero scritto chiaramente che Roma comune, capitale del nostro paese, andasse sciolta per mafia. Mafia. Chiaro? Non viene sciolta perché avremmo avuto un impatto da un punto di vista anche economico sul paese. Perché negli Stati Uniti, in Europa, si sarebbe detto che la capitale di un paese del G8 è stata sciolta per mafia. Se non si parte da qui, non si comprende. La coda della domanda dello studente, della societessa, era perché Roma è diversa da tutte le altre città. Perché Roma è questo che vi ho detto dal punto di vista dell'equilibrio tra i poteri e realizza e costruisce un'amalgama criminale di interlocuzione reciproca dove i morti e ammazzati ci sono, ma non frequentemente, e dove da tempo vi è un'organizzazione in cui tutti vivono e coabitano tutte le organizzazioni criminali, e quelle autoctone e quelle venute da fuori. È un unicum dal punto di vista criminale. E sotto certi aspetti questo serpente ormai che si mangia la coda continua a fare il gioco dei cosiddetti nullatenenti o dei nullafacenti a seconda al momento in cui vengono inquadrati i Casamonica. E a proposito della brandizzazione a cui facevamo riferimento prima, io con questo voglio confrontarmi anche con te. Ho la percezione, anche la convinzione che questi gesti, questi atti servono a... faccio due esempi fondamentali che sono stati due spot straordinari a costo zero di cui la famiglia si è avvalsa utilizzando il mezzo televisivo, tra l'altro il canale nazionale il primo perché andavano tutti e due sul Rai 1. La testata famosa, quella a Daniele Piervincenzi che è diventata, come dire, è stata diffusa e aveva milioni di telespettatori perché è stata mandata, rimandata più volte. E poi il momento clou che è quello del funerale del capo famiglia, in questo caso addirittura non solo chiamato il Papa, ma immortalato sui poster, sugli striscioni vestito di bianco con la croce al collo e con una frase sotto hai conquistato Roma, adesso conquisti il paradiso e durante il funerale con il cocchio trainato da sei cavalli c'era addirittura un elicottero che non avrebbe dovuto sorvolare quella zona di Roma e che invece lanciava dei petali. Tutto questo viene ripreso poi, e qui voglio confrontarmi con te come collega anche, viene ripreso da una trasmissione come porta a porta che dà spazio ai figli del bossio che era morto. E quando all'indomani il magistrato d'Aostia contesta la disponibilità della televisione di Stato a un momento come quello che era un momento di vera e propria pubblicità, se vogliamo, spot per affermare quel potere, proviamo, se lanciamo il video, proviamo a sentire come il conduttore reagisce e risponde al magistrato. Rispetto a una stima personale di lei che è straordinaria, tra l'altro la considero se non il migliore uno dei migliori conoscitori dell'informazione. E proprio per questo sul piano personale sono rimasto stupito perché nella sua trasmissione ieri cosa ho trovato io personalmente? Ho trovato che noi abbiamo avuto dietro abbiamo avuto una manifestazione, una folclorizzazione di quello che in realtà è un fatto gravissimo, cioè la presenza delle mafie, delle organizzazioni criminali sul territorio di Roma. Dietro la simpatia, mi permetta di dirlo, un po' burina di Vera Casamoni che in realtà si cela, al di là delle sue irresponsabilità personali che sono nel caso di specie inesistenti, ma si cela violenza, si cela prepotenza, si cela il dolore di tante vittime, non si cela ancora l'orrore fortunatamente perché grazie a Dio a Roma la mafia non è quella di Casal di Principe, non è quella di Corleone, però si cela questo, si cela un mondo fatto di estorsioni, di usura. Quello che mancava, mi permetta, proprio da non conoscitore del mondo dell'informazione, è veramente minchino di fronte a un mostro sacro dell'informazione quale lei, quello che mancava era la voce alle vittime, perché questo mancava... Aspetta un momento, andiamo nell'ordine, mi scusi, si mette un momento nei panni nostri. Funerale 20 agosto, succede il che succede e le ferite sono ancora aperte evidentemente, per le disattenzioni, perfetto, benissimo, quindi è un fatto di cronaca. Porta a porta deve occuparsi di questi casi? Assolutamente, si mancava altro. Qual è naturalmente questo mestiere soggettivo, per cui ognuno lo può interpretare, insomma, noi che siamo molto, molto attenti, soprattutto quando si tratta di casi delicati come questo, come ci siamo regolati? Abbiamo detto, benissimo, invitiamo due persone incensurate, perché Vera Casamonica non ha mai avuto un'avviso e garanzia, meno che mai il nebbio terribile, d'accordo? Quindi avevamo il doppio vantaggio, mettiamola così, di avere le persone molto vicine a Vittorio Casamonica, cioè all'uomo del quale sono stati celebrati i tribunali, ma al tempo stesso loro non erano, non erano. Due, come interlocutori, come obiettori, al di là di quello che ho fatto io e che rivedremo molto brevemente tra qualche momento, il direttore del messaggero, che è il più importante giornale romano, e Fiorenza Virmacusenza e Fiorenza Sarzanini, capo della giudiziaria del Corriere della Sera, secondo me la prima cronista giudiziaria italiana, perfetto, che ha fatto delle inchieste sui Casamonica. E quindi più obiezione di questo genere. Dopodiché, voglio dire, Vittorio Casamonica, perché l'informazione bisogna darla completa, quando si alza molta polvere, poi alla fine non si capisce più niente. Quindi noi, e non debbo dirlo a lei che è un magistrato, che sa come le responsabilità possiano, la famiglia Casamonica è una famiglia molto complessa e con un alto tasso di criminalità, nella fattispecie la persona nella quale sono celebrati quei funerali volgari, eccessivi, provocatori, Vittorio Casamonica non era un mafioso e non erano spacciatori di droga, e questo lei lo sa meglio di me. Quindi, fatto questo, noi che cosa dovevamo dire Casamonica? Dovevamo contestare tutto quello che la magistratura, la polizia, i rabbinieri hanno contestato e quello che gli ha contestato l'opinione pubblica. Nello, Vittorio Casamonica non era un mafioso, non era un criminale. Allora, io penso questo, guarda, io faccio il giornalista, no? Ho intervistato anche il boss, per il libro e per il documentario ho provato a intervistare Casamonica, non è andata sempre benissimo, però in parte sono riuscito anche a farlo, no? Va bene che ospitare il boss, però bisogna fargli le domande. Ed è vero quello che dice Vespa, e questo mette in discussione, in realtà conferma quanto vi ho raccontato prima, perché Zio Vittorio muore da quasi incensurato, con pochissimi precedenti. Io l'ho raccontato nel libro. Quando gli sequestrano tutto, c'è un giudice a Roma che nella sua discrezione, nella sua valutazione decide di restituirgli il malloppo e di scrivere che non vi era alcun riferimento a una struttura criminale, men che meno mafiosa. Negli anni, quando io parlo di una sottovalutazione, non ne parlo genericamente, io faccio i nomi, i cognomi, cito gli atti giudiziari, cito gli atti amministrativi, nei quali emerge chiaramente di come rispetto a Casamonica la politica si sia comportata come una specie, se era quella di sinistra, un'attenzione rispetto alla provenienza, è un gruppo sinti, non bisogna come dire scadere nel razzismo, non c'entra niente in questo caso. Noi parliamo di soggetti che hanno una responsabilità penale personale e di una famiglia che è un gruppo criminale perché si aiuta e nessuno di loro è mai uscito né a collaborando né prendendo le distanze. Quindi noi ci occupiamo di quello e studiamo quello, arrivino da qualsiasi parte del mondo, stiamo parlando di questo. Però questo atteggiamento bonario, giustificatore nei loro confronti, ha prodotto un disastro politicamente nella visione e nell'attenzione rispetto a questo. Al punto di vista della magistratura, il tema è molto semplice, quando arrivavano le carte su Casamonica, va bene, Casamonica, una roba minore, va bene? Questo è ampiamente dimostrabile, basti vedere come sono finiti dei processi penali a carico dei Casamonica. Tu prima mi hai accennato alla testata. Quando Luca, vent'anni fa, un militare, anzi dieci anni fa, lo racconto, cammina per via Domenico Baccarini a otto chilometri da piazza Venezia. Viene fermato dai Casamonica che lo scambiano per uno che aveva appena sparato a uno della famiglia. Lui si toglie il casco, si fa riconoscere, dice non c'entra niente. Lo riempiono di botte, lo lasciano in un lago di sangue. Arrivano i carabinieri, Luca ritirerà la querela. Viene assolto uno dei imputati e l'altro prende diciotto mesi, diciotto mesi. Non si fa neanche un giorno di carcere. Questi sono stati Casamonica prima degli eventi mediatici. Totalmente sottovalutati. Querele denunce ritirate, condanne lievi, benefici di legge, un'attenzione nulla nei confronti di un fenomeno criminale che cresceva. Quindi il funerale di Vittorio Casamonica ci ha trovati impreparati. Perché noi scopriamo le mafie così ogni tanto, quando capita, dura tre giorni il dibattito. Vi faccio una domanda. Che affine hanno fatto quelli che hanno autorizzato in pieno periodo di rischio terrorismo, dove non poteva volare neanche un aquilone sui cieli di Roma? Quelli che hanno consentito che un elicottero distribuisse per fortuna petali e non bombe. Volete vedere che hanno fatto tutti i carriera? Ecco, non vedete, ve lo dico io. Hanno fatto tutti i carriera. Il problema di questo paese è la memoria corta come una miccia. E quando la miccia è corta ci facciamo male. E noi come ci facciamo male? Parlando poco di queste cose. Merito a voi, agli studenti che hanno avuto voglia di leggere questi libri. E se vogliono approfondire, c'è il documentare, ci sono i servizi televisivi che ho realizzato. E ci facciamo male perché ne parliamo poco, li affrontiamo male, quando dobbiamo affrontarli, anche in maniera poco preparata. E quindi riusciamo a contrastarli. E questo che cosa genera? Io ho parlato con le persone che vivono vicino di Casamò. L'onestà deve essere conveniente. Io non posso dire a un cittadino che vive in via Rocca Bernarda, dove ci sono stato un sacco di volte, anche con difficoltà, salvato dalla polizia l'ultima volta che sono stato lì, e dirgli, ah ma tu devi denunciare. Ah devo denunciare io. E voi 30 anni alla casa di questo perché non glielo avete abbattuto? Perché lui continua a fare reati e a uscire di domenica con la Ferrari. Se tu non percepisci la presenza dell'istituzione nel tuo territorio, hai voglia a predicare legalità. La legalità si pratica, non si predica. E se non la pratichi, le persone lo capiscono. Io vengo dalla provincia di Napoli. Quando si candidavano alle elezioni, io lo sapevo chi li portava. Lo sapevo benissimo. E quando sentivo le persone parlare dai palchi, e parlavano contro le mafie, perché siamo tutti contro le mafie. Ma il problema è poi mettere in pratica. Perché le case dei Casamoni che sono state abbattute dopo 20 anni dai decreti di abbattimento? Perché? Perché se ne sono fottuti. Scusate l'espressione, perdonatemela, ma è l'unica che rende l'idea. E allora questo è il tema gigantesco quando parliamo di mafia e parliamo di Roma. Allora Vespa che fa? L'invita? Forse doveva fare più domande, ma doveva comprendere. Ma ognuno fa il mestiere a modo suo. Io non giudico mai, non sono nessuno per farlo. Io parlo del mio. Ma io avrei intervistato per la Casamoni. Cioè io intervisterei e intervisterò sempre i criminali, facendogli le domande, ponendogli le questioni. Noi abbiamo fatto nel documentario con Baldini, che criminale non è, ma è stato vittima di Casamoni. Gli abbiamo fatto le domande, abbiamo fatto vedere le intercettazioni, abbiamo fatto capire che lui era impaurito di quel clan e ancora nega che era sotto scacco di quel clan. Perché le domande vanno fatte e le persone vanno sentite. Ma quando dice Vespa che era arrivato quasi da incensurato alla morte, è vero. È assolutamente vero. Perché spesso quando gli hanno sequestrato i beni gliele hanno restituiti e perché le indagini che andavano più o meno a sfiorare il tema dell'organizzazione criminale erano state smontate per buona parte e per anni dei Casamonica non si erano occupati i magistrati. Senza dimenticare che la genia criminale dei Casamonica viene da un signore che si chiama Enrico Nicoletti, che era definito il cassiere della banda della Magliana. Un signore che aveva a che fare con Presidente del Consiglio, con imprenditori, con ministri e con politici e con grandi boss. Quando hai quella ombrello criminale capisci che hai le relazioni e quando hai le relazioni costruisci i sedimenti potere. Quello hanno fatto i Casamonica. Quindi il funerale è una parentesi. Ci ha risvegliati? No! No! Poi ognuno risponde per sé. Noi non dobbiamo affidarci alla delega. Noi dobbiamo noi mettere qualcosa nell'ingranaggio per bloccarlo. Non possiamo dire ma dovevi farlo tu. No! Dovevi farlo tu. Ognuno secondo il proprio lavoro. Quando fai lo studente ti informi e decidi perché poi piano piano andrai a votare. Quando fai il giornalista fai le domande e scrivi le cose quando ce l'hai senza omettere i nomi e i cognomi. Quando fai l'ingegnere sul comune eviti di retrodatare i condoni edilizi e a faciliti gli abbattimenti. Quando fai il sindaco abbatti le case. Quando fai il magistrato rileggi le carte anche se sono bulli. Ognuno può fare un pezzetto del proprio dovere bene per disarticolare questo sistema criminale. Perché è cambiato poco? Perché l'anno scorso io c'ero al funerale di Fabrizio Piscirelli, narcotrafficante, che con l'autorizzazione della questura l'ho scritto, l'ho riscritto, l'ho detto, l'ho ridetto. Hanno autorizzato un funerale l'anno scorso, non vent'anni fa, non cinque anni fa, con gli ultrasi fedelissimi di affiliati pregiudicati in strada ad applaudire il feretro di Fabrizio Piscirelli. Narcotrafficante, una cosa che a Roma succede, ma non sarebbe successa in nessuna città del sud. Quindi Roma reitera i suoi errori. Perché poi di mafia già in generale si parla pochissimo, ma a Roma se ne parla proprio. Quel funerale è stata l'occasione per fare un po' di, diciamo così, di batti, di denerisivi tra i quattro giorni e poi in realtà dei Casamoni che è tornato a parlare con la testata data a Daniele Piervinzi. Scusa, do spazio a un'altra domanda dei ragazzi. E contemporaneamente, come lo hai raccontato, sembrava rivedere le scene di un altro successo televisivo, che è quello di Suburra, e che pare prendere una sorta di sceneggiatura da questa situazione. Gli studenti ti chiedono cosa intendi, perché penso che sia molto inerente a quello che hai appena detto, per collegamento tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. Il collegamento tra il mondo di sopra e il mondo di sotto è facile. C'era un signore che fa il revisione dei conti, mi ha raccontato un testimone che conosce bene la famiglia di Casamoni. Questa revisione dei conti aveva l'abitudine, il vizio, di consumare cocaina. I Casamoni che gli hanno fatto fare il trasporto di un chilo di cocaina, e quello era del mondo di sopra, che incredibilmente si è trovato a disposizione del mondo di sotto, perché è finito sotto ricatto. Quando hai in mano la prostituzione di alto livello, quando hai in mano la cocaina e questi due servigi li rendi alla buona borghesia romana, questi poi finiscono sotto scacco perché sono ricattabili. Il mondo di sotto e il mondo di sopra si parlano. Si parlano attraverso i servizi e il consumo che fanno di attività illecite che sono fornite dal mondo di sotto. I due mondi a Roma si parlano e interloquiscono tantissimo ed è possibile passare da quello di sopra a quello di sotto in poco tempo. Tra l'altro di Casamoni che hanno sempre avuto questa voglia matta di uno status, di un riconoscimento di status. Frequentano la Roma bene, frequentano i ristoranti, frequentano il centro di Roma, comprano anche le attività commerciali, hanno sempre un Rolex al polso, perché devono elevarsi da un punto di vista dello status. I due mondi a Roma sono molto intercambiabili, proprio perché collegati da quelli che sono i vizi e all'attività illecita che il mondo di sotto rende e offre al mondo di sotto. Allora, Nello, abbiamo cinque minuti più o meno ancora a disposizione perché la conversazione è avvincente ed è volata sotto certi aspetti. Ho ancora un mare di domande da farti. Abbiamo bisogno di parlare almeno per un po' delle donne, ma volevo anche farti un'altra domanda a proposito di mondo di sopra e di mondo di sotto e di tutto questo incrocio con la realtà mediatica. Antonio Albanese tempo fa su Rai 3 ha dato invece una sua illustrazione di questa sorta di mondo di sotto e un'altra declinazione e mi fa pensare a una frase che sta nella copertina del tuo libro. Per capire devi pensare ai topi. Quelli sono milioni, escono e mangiano tutto. Loro uguali, tanti e senza scrupoli. Quanto è vicino alla realtà, un solo flash, l'ipotesi di Antonio Albanese, la famiglia che vive come i topi, da un accaso il titolo era Ratti, che sono nascosti e poi si... La metafora dei topi che mi restituisce un pentito, Fazzari, che io ho intervistato nel libro, che parlava per la prima volta, è soprattutto riferita a due aspetti. Il primo alla ferocia, diciamo così, famellica, e la seconda al numero, cioè alla presenza, alla consistenza. Leggete i libri sulle mafie, non i romanzi però, i libri. Leggete i libri dei giornalisti che scrivono i nomi e i cognomi, non quelli che favoleggiano. Le serie televisive sono molto belle da vedere con un bicchiere di birra, un bicchiere d'acqua, un bicchiere di tisana, come volete voi, però favoleggiano. Su Burra non racconta i Casamonica. Non c'è nessuna, come dire, supremazia del nero rispetto ai Casamonica. Purtroppo le serie televisive diventano fortunate, fanno la fortuna di quelli che le scrivono, spesso mitizzano i personaggi, scompare totalmente lo Stato e le forze dell'ordine. È una cosa inaccettabile per me, anche se le vedo, le guardo ed è giusto che vadano in onda, vengano prodotte, vengono distribuite, siamo in democrazia ed è giusto che ciascuno si faccia la sua idea, però visto che siamo in democrazia anche noi possiamo anche usare l'arma della critica. Cancellare lo Stato, cancellare i giornalisti, cancellare chi ha denunciato, cancellare chi ha fatto gli arresti, cancellare chi ha passato le notti ascoltando le intercettazioni, cancellare gli uomini e le donne, soprattutto straniere, che hanno denunciato e hanno pagato in proprio libro. Per costruire il mito a me non è mai piaciuto, così come non è piaciuto anche avendola vista, da un punto di vista scenico e filmico comorra straordinario, ma da un punto di vista della resa e del racconto no, per nulla, perché ha cancellato chi metteva la sabbia nell'ingranaggio. Lo so che è difficile raccontare anche chi ha provato a resistere ed è molto più semplice raccontare soltanto il male. Però in questo libro trovate la storia di Medi Denavi, Medi Denavi Marmiste Graniano, che io ho intervistato anche per il mio documentario, che il Graniano di sabbia nell'ingranaggio l'ha messo, pagando quasi con la vita perché gli hanno spaccato la faccia ai Casamoniche e quando andò dalla polizia a dire io denuncio, gli dissero non è il caso di mettersi contro i Casamoniche e lui disse allora io denuncio pure voi. E poi ha denunciato e Guido Casamoniche sta arrestato, oggi è in carcere, grazie a Medi Denavi, cancellare chi resiste, cancellare chi mette sabbia nell'ingranaggio, è un'operazione che io non tollero, non accetto, così come favoreggiare sul crimine, non mi piace, non lo faccio, io scrivo i nomi e i cognomi, mi prendo le querelle, mi prendo le minacce, mi prendo le intimidazioni e rispondo del mio come tanti colleghi che fanno bene questo mestiere, senza costruire mitologie, senza costruire fantasie e soprattutto penso e ritengo che questo tema debba essere affrontato prendendosi anche qualche pezzo di responsabilità, non ignorando mai storie come quella di Ernesto Sanità che è scomparso l'anno scorso, un uomo italiano a cui Casamoniche hanno tolto la casa, che io ho incontrato e ho raccontato, Ernesto era un uomo che nel 2009, prima che io scrivessi libri, prima che tanti colleghi scrivessero di Casamoniche, prima che la polizia le arrestasse per mafia, era andato all'Ater a dire scusate questi si sono presi casa mia, è casa mia, io sono un legittimo assegnatore, poi era andato dalla polizia e la denuncia si è persa, il signore Ernesto Sanità viene richiamato esattamente 8 anni dopo dai carabinieri di Frascati per dirgli abbiamo recuperato alcune sue segnalazioni, ma a casa sua c'è Guerrino Casamonica che ha costruito la casa dei sogni dove fa le sue notti brave, mentre Ernesto dormiva sotto i ponti in questa città, sotto i ponti. Ecco, a me piace fare i nomi e cognomi delle vittime e dei carnifici, su queste storie si devono fare poche favole e pochi miti. Ed è il motivo per cui abbiamo voluto che tu fossi tra i nostri autori per presentare questo libro, abbiamo detto basta la parola, Casamonica, Nello Trocchia, edito da Utet, io ti chiedo una cortesia, visto che qualche domanda ancora da parte dei ragazzi è rimasta in Evasa, io te le trasmetto e se tu con la tua videocamera registri le risposte, noi le possiamo fare arrivare ai ragazzi. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi, grazie alle ragazze e ai ragazzi che ci hanno ascoltato e che mi hanno sopportato. Un po' di qualche dieci minuti di pausa e passiamo al prossimo autore. Grazie, arrivederci. Il Festival Nazionale della Legalità riprende al 9 al 14 novembre. Ecco di cosa si tratta. Lotta culturale per ambire ad un'economia legale che possa attraverso il giornalismo di richiesta e racconti di antimafia, istituzionale e bullismo. Lezioni di legalità che partono dall'Itria e si estendono sul territorio nazionale, grazie alla casa editrice Radici Futuri. Incontri, letture e discussioni che dichiarano solo l'amore per la nostra terra. Grazie a tutti.